E siamo allo sport calcio, parliamo del mercato del Pescara, in realtà giornata interlocutoria, per sbloccare il mercato in entrata bisognerà operare alcune cessioni, non sono facili, non sono semplici, quelle di Crecco e di Ingrosso, poi Delicarri penserà agli innesti, obiettivi, mezzala esterno d'attacco mancino, sempre vivo, l'interesse per Amato Ciciretti attualmente in forza all'Ascoli, ma di proprietà della Pordenone, bisognerà convincere il calciatore che non frequenta la Serie C dalla stagione 2015. 2016, quando conquistò la B con la maglia del Benevento. L'Escano potrebbe cambiare aria, nessun chiarimento infatti con il tecnico e la società, gli agenti della punta si stanno muovendo, l'Escano piace a tanti club dei tre gironi di Serie C. Sabato intanto sarà di nuovo campionato, il Pescano ospiterà il Latina, inizio ore 14.30, Colombo recupera Plizzari, Craia e il regista Luca Palmiero, che oggi è rientrato in gruppo a riposo precauzionale per una borsita. interattaccante italo-albanese Aristidi Colai, la sua presenza con Latina non sembra in dubbio, sicuramente tornerà a tre pali il portiere Plizzari, recupero Lampo dell'ex Milan, infortunatosi alla spalla nella trasferta di Monopoli dello scorso 11 dicembre. Sarà a disposizione di Colombo anche Craia, come detto, che insidia Giabua nel triangolo di metà campo completato da Aloy e Mora, in difesa torna tra i titolari Cancellotti, mentre in grosso è in vantaggio su Boben. In attacco, se sta bene, Colai giocherà al posto di Cuppone, altrimenti sarà l'ex potenza ad affiancare Tupta e De Sogus, Latina, privo del lungo degente, causa pubalgia, Marco Teraschi, pescarese doc, ex delfino Flaccoporto, ora delfino Curi Pescara, dello squalificato Giorgini e dell'attaccante Cristian Carletti, ceduto al Trento. Ci sono tutti gli accordi per il prestito dal Pescara dell'argentino Nicolas Belloni, classe 2001, prima parte dell'attuale stagione nella potenza. Sistema di gioco 3-5-2 o 3-4-2-1 a seconda della posizione in campo dell'ex Alessio Riccardi, davanti l'aquilano Luca Fabrizi, classe 98, finora 5 gol. Prima esperienza tra i professionisti, ex l'aquila Giulianova Francavilla, esploso, lo ricordiamo, nel Chieti, 16 reti in 27 presenze lo scorso anno in Serie D.